Milan a Pristina, sabato rosso-nero in Kosovo con Raffaele Leão convocato e con ogni probabilità schierato dal primo minuto e con la prima convocazione stagionale per una amichevole rosso-nera anche per Paquetà. Ferronicheli, Milan a Pristina, oggi sui giornali ci sono dei bellissimi ritratti, bellissimi dal punto di vista storico senza nascondersi evidentemente le sofferenze vissute negli ultimi anni dalla popolazione kosovara, però in Milan va a giocare in una città pristina che interpreta questo amichevole come un segnale di riscatto, come una prova di rinascita verso un futuro che il Kosovo vuole sempre migliore nonostante leggiamo in particolare su Repubblica si è ancora osteggiato dallo Stato serbo, dalla popolazione serba. Noi naturalmente andiamo in Kosovo per continuare a fare passi in avanti, per continuare a fare progressi, Marco Giampaolo non fa più esperimenti come nelle primissime gare anche perché c'era qualche acciacco ma tende a far giocare il più possibile i primi 11 che dovrebbero iniziare il campionato contro Udinese e Brescia. In ogni caso nella giornata di Ferronicheli, Milan potrete trovare anche sull'app di OneFootball i vari aggiornamenti e i vari report sulla giornata rossonera in Kosovo. Detto questo la nostra giornata è iniziata in maniera curiosa, in maniera bizzarra perché scorrendo i giornali abbiamo letto due tesi di due quotidiani torinesi, ugualmente legittime e quotidiani ugualmente strarispettabili, totalmente diverse fra loro. È il bello della pluralità ed è il bello evidentemente del calcio nel quale nessuno ha mai la verità in tasca, però analizzerei un attimo questa situazione. Tutto Sport scrive il bilancio del Milan è a posto perché ci sono stati sì cinque acquisti e sì due cessioni, quelle di Cutrone e Thiago Jallò, con uno sbilancio di 59 milioni di euro, ma incassando subito e spalmando invece con un gioco di incasti e di ammortamenti gli acquisti su cinque anni, il bilancio del Milan in questo momento non ha alcun tipo di sofferenza per quanto riguarda il calciomercato. Ricordiamo che al 30 giugno il Milan ha chiuso il bilancio, poi si conosceranno le cifre ufficiali con un evidentemente meno molto importante. Però la tesi di tutto Sport è fino adesso Milan a posto dal punto di vista contabile, dal punto di vista del bilancio e dello sbilancio fra entrate e uscite, con le tecniche di ammortamento e di bilancio tra entrate e uscite il Milan in questo momento è a posto. Questa è la tesi di tutto Sport. Poi un altro quotidiano torinese invece, La Stampa, scrive qualcosa di diverso, il Milan deve assolutamente vendere, il Milan ha l'ansia di cedere perché, attenzione, è la prima volta che lo abbiamo letto quest'estate e quindi lo sottolineiamo e ve lo sottoponiamo, la UEFA già invia segnali. La collega che l'ha scritto, Tiziana Cairati, è una collega seria, professionale, quindi mancherebbe altro, non ci permettiamo di entrare nel merito, leggiamo e prendiamo atto. La UEFA invia segnali e quindi il Milan deve a tutti i costi, anche con un po' d'ansia, cedere o Donnarumma o Suso o Andre Silva. Poi ci sono altri quotidiani che specificano, ad esempio il Corriere della Sera dice che se nell'operazione Neymar e Real Madrid dovesse entrare anche Keylor Navas, a quel punto il PSG farebbe venire meno ogni suo tipo di interesse per Donnarumma. Ma al di là di questo, stiamo alle due tesi contrapposte. Tutto sport, ammortamenti, incastri, bilancio, tutto ok, fa entrate e uscite fino a questo momento fra spalmature e altre situazioni contabili. La stampa invece dice che Milano deve cedere, la colagola, l'UEFA già manda segnali. Quindi due versioni completamente opposte. Quando abbiamo letto l'UEFA invia segnali senza minimamente mancare di rispetto alla stampa, mancherebbe altro, la collega Cairati, ci è venuta in mente una scena di un film. Il film, insomma, ha vinto l'Oscar degli incassi, non vincerà evidentemente l'Oscar fra le pellicole più pregiate del mondo, ma che volete? Noi siamo di gusti bassi, noi siamo di gusti tradizionali e quindi ogni tanto, anzi più di ogni tanto, lo confesso, quei film guardiamo e anche con interesse, passione e divertimento. La scena è del film Cuovado, l'ultimo che ha fatto Checco Zalone. A un certo punto Checco Zalone, rientrato per il weekend con la sua nuova compagna dal Polo Nord, è a tavola e conosce le storie, le varie, le diverse religioni, le diverse abitudini, le diverse storie, i diversi padri dei tre figli che la sua compagna ha al tavolo. Una bimba asiatica, un bimbo di colore e un bimbo del Nord d'Europa. E alla fine di tutte le storie della vita della compagna di Checco Zalone, i bambini chiedono a Checco Zalone invece lui che cosa faccia, lui dice la sua età, che vive ancora con i genitori, eccetera, eccetera, eccetera. E i tre bimbi si mettono a ridere. Checco Zalone ne chiede conto alla sua compagna e la compagna gli dice sai ti trovano un po' strano alla tua età essere ancora in casa dei genitori. E Checco Zalone risponde ha in mezzo a tutto qua lo strano sono io? Può essere lo strano sono io? Ecco ci viene un po' questo da chiederci. Con tutti i prezzi che girano quest'anno sul calciomercato, con tutte le situazioni abnormi, gli acquisti milionari, le cifre esorbitanti per questo, quel giocatore è al Milan che vanno inviati i segnali? Domanda, è una semplice domanda, non è un merito professionale di chi ha scritto questa tesi, ma è la questione. In mezzo a tutto il calciomercato di quest'estate è al Milan che bisogna inviare segnali che tira sul prezzo su ogni giocatore, sta attento ad ogni singola mossa, su ogni singolo acquisto a livello di bilancio e di denaro? È una cosa da chiedersi. Poi che il Milan abbia chiuso l'ultimo bilancio con una perdita importante. È vero che il Milan abbia zerato tutte le pendenze UEFA fino al 30 giugno 2018, ma che evidentemente dopo il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 ci sarà un'altra verifica nella prossima primavera, è vero, ma che in mezzo a tutto questo calciomercato la cosa strana debba essere il Milan, ecco questo, questo onestamente fa un po' strano alla Cuovado e alla Checco Zalone. Volevamo chiudere ricordandovi che questa sera saremo in diretta su Milan TV. C'è un'importante esclusiva Milan TV, Ferronicheli Milan, la partita è in Kosovo, sarà possibile vederla sul Cap Channel Rosso Nero, naturalmente sintonizzatevi in diretta con noi, noi ci auguriamo che tutti i nostri abbonati siano con noi, che anche chi non è abbonato lo faccia, perché comunque è importante stare in famiglia e Milan TV sta crescendo giorno dopo giorno sempre più di qualità e di prodotti, però chi non fosse abbonato a Milan TV o non avesse interesse, perché c'è anche questo dato con cui fare i conti, ad abbonarsi al Club Channel Rosso Nero, la partita andrà in onda anche in Italia, sulla location italiana, sulla pagina Facebook di AC Milan, per cui Ferronicheli Milan, ampia copertura da parte di tutti i media ufficiali rossoneri.